Buongiorno, buongiorno, ci siamo, ci siamo, occhio pecoro, ragazzi, la mattina, sempre presente, eccolo qua, andiamo a depecorizzare, lui non è lui, certo che è lo schiso, non è schisa, per depecorizzare lo schiso, ah guardate adesso come ci fai, no, vabbè, anche stamattina sta pieno ragazzi, sta pieno, 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 sta pieno, 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 sta pieno, perché poi sta pieno, si può utilizzare un po' per tutto, ma in questo caso sta pieno di figli, che bello. Buongiorno coccodrilli, ci siamo, ci siamo, sulle mano, io mi amo, ci svegliamo così, belli carichi la mattina, lunedì, ballate con me, e se sei un coccodrillo, Dillo, voglio vedere i buongiorno, voglio vedere i belli carichi, su, sei, 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 sono qui con Fausto, della Master Service, perché? Perché ha fatto un disastro, ha fatto un disastro, praticamente distrutto tutti i cerchi, tutti i cerchi da rifare, ma c'è Fausto! Guardate che bello qua, guardate la mia Umbria, che spettacolo, che bella, e comunque mi hanno dato un Pandoro, eccolo, Pandangiro. Ti ricordi sul pandino, io c'avevo proprio quello vecchio, 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 7,54 marce, raga, cioè, la seconda andava a 80, scoppiavano i pistoni, mamma mia, E voi, come prima macchina che ci avete avuto? Una figata, la Panda 750, fighissima, rossa. Sono qua nella camera iperbarica, ecco Federica, vai, ciao. Per sapere tutti i benefici, scrivete alla Plexor. Che divertente il suono, quando non metti la cinta della Panda, 3, 2, 1, 6, 6, 6, sulle mani tempo, non vedo, non sento, mamma mia, bellissimo. E riparte, incredibile, direttamente dal tracciato di Imola. Eccola, guardate come va, col carrettino, eh, vai, 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 com'è? Apri lì, vai, 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 vai col carrettino, vai, 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 vai col carrettino, vai. Da chi stavi a chiamare? Da chi stavi a chiamare? Da te. Da chi? Da te. Quindi, vedete, quando non ci so, mi ricerca sempre sto birbaccione, eh, lo vedi, bravo, 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 bravo. No, ma... Ma buongiorno. Eh, buongiorno, non cazzo. No. L1, buongiorno. Ma buongiorno, buongiorno. L'erda di coglione, ah. Conosco, me la fa una cortesia. Eh. No, a parte gli scherzi, però, eh, visto, si avvicina, è sempre p***cina, è alle porte, ormai manca meno dei mesi, cioè, compramelo vino dei pochi. Ma l'erda di coglione, cammina, trova una bella sorga, no, l'olio di Pasqua. L'olio di Pasqua, che cazzo c'è, la sorga che trovi. Ma l'erda di coglione. Vattene! Mannaggia la puttana della madonna. Eh. C'è una lettera, no, 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 questo è VAR, questo è VAR, io non lo so, eh. Sotto, sotto. Scemo. No, anche in sul giornale. C'è una lettera a te. Stanno consultando. No. No. Che stai fa, o no? Una sega. Che stai fa? Oh, che stai fa? Ma l'erda di coglione. Dimi che stai fa, bene. O la mangiare. E dopo che fai? E dopo me la mangio. E poi? E poi? Lei che te la tiro, eh. Che fai poi? Ah. Che fai, o no? Mannaggia la... Oh! Quando basta, basta! Dimi che stai fa? Mettere sull'acqua, ne vedi? E dopo che hai messo sull'acqua, uno che fa? Che cosa? La pasta. E poi quando ha mangiato la pasta, che fai un po' di coglione. Dormimo? Oh, bello di Roma. Sveglia, eh. Oh no, il cane dormiva. Oh, l'esca. Che vuole fare? La pasta nera nulla vuole. Perché la vuoi? Nera, quando c'è nera. Perché la vuoi la pasta? Perché nulla vuole. Perché? 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 A me anche il perché. Oh, ma dico quattro bestemmi, hai fatto bene. Come ne vuoi? Eh va. Che fai un po' di coglione. Lui quattro bestemmi e poi esce di scena così. Con quattro bestemmi. Dovevi hai fatto una domanda? Cioè, se incavola perché non può mangiare. Perché non può mangiare. Cosa bella è questa. Fai un po' di coglione. Fai un po' di coglione. Fai un po' di coglione. Oh, strutti, 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 strutti. Puoi scegliere anche l'insalata? E beh. A fai un po' di coglione. E certo. E lasciali poi vedi intorno. Ora fai l'unboxing. Fermati con la tortella. L'unboxing. È quella del prosciutto. Ma ora fai l'unboxing. Fermati che ti ho puntato. Ma perché? No, la fai con questo. Fermati. Per tutte le risate che ci fate fare. Un saluto da Cagli a tutta la simpaticissima famiglia. Grazie. Grazie, grazie. Ora le piadine. Che spettacolo. Grazie mille. Grazie. Attenzione. Sta nevicando. Riaprono gli skilift seggiovie. Ovovie. Funivie. Riaprono le piste azzurre. Rosse, nere. Cortina d'Ampezzo. Cortisei. Limone Piemonte. Incredibile. Guardate quanto sta nevicando. incredibile. Tutto pieno. Pieno di neve. Sta pieno. Sta pieno. Sta pieno di neve. Sta pieno di neve. Ma ti è mai buttato. Oddio. No. Sta pieno di neve. Ha nevicato. Tutta bella fresca. Guardate che bello. Ora passo agli dato le nevi. Il commissario. Figliettini a tutti. Ma ti è musicale. E tu. Ti è giornata l'Umbria. Beh, che è? Ma guardamoli. Che bellini con i merletto. Ma lasciali. Ma te sciacca di coglioni. Ma guardamoli insieme. Ma io non voglio fare niente. Guarda quanto è bello. Ma adesso te le comando. Sono Simpsons. Allora, prevoi. Sono Simpsons. Prevoi. I Simpsons se mangi e tu. Guardi e tu. I Simpsons. Sì, 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 guardi tu. Che dammi. Mi prego anche. Ma è bello. Ma adesso te le comando. È bello, va. Ma va a farlo. Ma a rinca. E li scorroga il c***o. Ammetti. Devi ne rompi con io. Ma è bello. Questi sono educativi. Ma va, te ne va. È educativi, dammeli. Sono in telegiornale. Arrivo a mettere questi musici. Ogni tanto mi piace anche tornare. Questa chiesa, i più attenti se la ricordano, è dove si sono sposati più di 62 anni fa nonno Faustino e nonna Maria. Guardate che bello. Che spettacolo. Che pace. Tutti i mezzi schierati. Che bello. Il busterillo. La bestia. E la moto del nonno. Che adesso devo ripristinare. Sta buono. Che finisci? Mica te io. Mica po' piano io. Io ti do. Mi faccio. Mi faccio. Fermati. Porca ma. No. Ma via tu. Ma. Ma. No. Oh. Casca il pellet. Ma come si può toccare sto pellet. Perché il fuoco ha buchetto. Ma è vero. Anche sto. Piena di grappa. Va via. Va via. Va via. Ma è vero di prima. Va via. Va via. Ave Maria piena di. Piena di grappa no eh. Va via. Sto pulzando. Per què? Per lo sfocco. Per lo sfocco. Sto cazzo. Vaffanculo. Stronzo. Vaffanculo. 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 Stronzo. Stronzo. Pure rotto è fatto. Eh. Ma quanto ti dà gusto fai i giretti con me eh. Eh. Ti piace sta panda? Eh. Ti piacerebbe eh. Dammo indietro la tua e fai la panda. Eh. No no. Lascia. E intanto. Che guido mai. Frega un cazzo. Frega un cazzo. Ma sto sottopalla. Parvata di io campo. Eh. Stronzo. No. Vaffanculo. Il sottopalla. Tartar de tonno e non mangi il sushi. È uguale. È la stessa cosa. Ma poi gli ha detto tu. È la stessa cosa. E come no. È pesce cruro. È la stessa cosa. Eh no. E allora beve in goccio d'acqua eh. Basta che quando è pieno basta. Sta. Dio sta. No. Scalzo no. Perché. Almeno tagli un paio di scarpe no. Davvero ma scusa eh. A me te fa il pennello. Leva te dico io. Mannaggia. Ah. Il pennello. E me viene a fare il pennello un cazzo. Le scappole non mi tocca a me di questo. Lo scatolone. Leva te dico. A me fa il pennello. Sì. Dai pure fa il pennello. La differenza tra me e te. Io rompo lo scatolone con le mani mentre tu co coltello. E sono più forte di te. Perché con questo pennello. Oggi giornata super. Vi do la buonanotte. E adesso metterò. Ho fatto un po' così. Adesso sinistra di pasto misto. Metterò un po' delle vostre storie. Perché sono veramente fighe. Mi piace da morire quando mi taggate. Quando mi imitate soprattutto. Perché siete veramente fantastici. Ognuno a modo suo. Perché comunque. È bello anche questo. Rienterpretare. Gli la può parlare. Ma non le cancello. Tanto io so così. Buonanotte.